Cari amici della De Luce, vicini, lontani e viranti, avrei piacere di farvi una fila strocca sul problema della Santa Messa. Strano ma avrei piacere mi seguiste. Sentite. Vuoi essere guarito? Offri una Messa. Vuoi essere esaudito? Ascolta una Messa. Vuoi essere consolato? Va a Messa. Vuoi essere apostolo? Premetti una Messa. Vuoi fare miracoli? Partecipa alla Messa. Vuoi una buona giornata? Comincia con la Messa. Vuoi bene alla tua famiglia? Prega con la Messa. Vuoi essere utile agli amonati? Offri loro la Messa. Vuoi salvare anime? Prova con la Messa. Vuoi fare preghiere eccellenti? Preferisci la Messa. Vuoi rallegrare gli angeli? Dillo con la Messa. Vuoi bene i tuoi defunti? Preferisci la Messa. Conclusione. Ma vuoi sentire cosa dice il diavolo? Ti scuso sempre. Auguri, auguri. Buone tante sante messe per voi e per le persone che portate il cuore e che incontrate nella vita. Votro amico Don Giovanni Bellò, amico di Radio Luce a cui auguro ogni bene.